Ciao a tutti e benvenuti sul canale. Allora, ormai vi avrò rotto le palle con questo Silent Hill, ma io sono abbastanza sicuro che manchi poco all'annuncio e quindi voglio parlarvi di due cose. Iniziamo dalla prima, ovvero dal Tokyo Game Show, ovvero domani pomeriggio il 16 settembre alle 14 sul canale YouTube principale, il più grande, seguiremo insieme lo showcase di Konami. Perché? Perché ovviamente Konami potrebbe presentare un Silent Hill, un nuovo Silent Hill. Perché lo diciamo? Adesso ve lo spiego. Nel caso, come dice questo articolo, nel caso in cui ve lo foste dimenticato, Konami ha un annuncio molto importante in programma per il Tokyo Game Show 2022. Questo, l'avevamo già visto in uno dei vecchi video, è sostanzialmente un annuncio di un gioco senza titolo, Untitled. Quindi non ci hanno voluto rivelare di che cosa si trattasse. E Dusk Golem, noto insider, anche molto affidabile, aveva ipotizzato che questo gioco potrebbe essere proprio Silent Hill 2 Remake o un nuovo Silent Hill. Questo gioco, questo annuncio molto importante, è inerente il ritorno di una serie di videogiochi molto amata. Quindi stiamo parlando di una serie di videogiochi molto amata di Konami. Si era pensato a Suikoden. Ma, nel corso dell'ultima settimana, vabbè, nell'ultima corso della settimana avevamo ristretto la lista a tre opzioni. Suikoden, Silent Hill e Metal Gear. Suikoden era la più probabile, con la prima supportata anche dalla presenza del doppiatore della serie, Yuki Kaji, che salirà sul palco durante l'evento. Quindi poteva essere effettivamente Silent Hill, ehm, Suikoden. Una nuova informazione spuntata in rete pochi istanti fa, però, ha nuovamente cambiato le carte in tavola. Perché il videogioco misterioso di Konami è stato classificato Cero Zeta in Giappone, ovvero vietato ai minori di 18 anni. È praticamente l'equivalente del Peggy 18. Che in Giappone è stato assegnato a alcuni capitoli di Silent Hill e Metal Gear, ma mai a Suikoden. Quindi è molto probabile che il gioco che verrà presentato è un gioco vietato ai minori di 18 anni. Anzi, è sicuro che sarà un gioco, non vietato, ma consigliato, diciamo, ai minori di 18 anni. E quale gioco meglio di Silent Hill? Certo, c'è anche la possibilità che sia Metal Gear, ma in ogni caso c'è qualcosa di grosso che ci aspetta, molto probabilmente. Quindi domani, alle 14, sul mio canale principale, trovate il link in descrizione all'evento, seguiremo insieme questo showcase di Konami. Sapendo che c'è un sacco di roba di cui non ci interessa, ma sapendo anche che c'è una roba che potrebbe essere molto grossa e molto figa. Detto ciò, la seconda cosa della quale vi volevo parlare, ovvero sia che Silent Hill venga o non venga annunciato domani, è ormai ovvio che siamo agli sgoccioli, che manca poco perché venga effettivamente annunciato. Perché dico questo? Ricordate con Resident Evil 4 avevamo praticamente passato lo stesso, un periodo molto simile. Un periodo in cui c'era un sacco di leak, un sacco di leak, un sacco di rumor, di informazioni su questo fantomatico Resident Evil 4 remake. Ebbene, dopo poco, quando questi leak iniziavano ad essere veramente tanti, queste voci iniziavano a rincorrersi con una costanza allarmante, è stato finalmente annunciato Resident Evil 4 remake. La stessa cosa sta succedendo con Silent Hill 2 remake, o un nuovo capitolo di Silent Hill. Quindi, sia che il gioco venga annunciato domani che non venga annunciato domani, siamo ormai agli sgoccioli. Da adesso a Natale sicuramente si saprà qualcosa di un nuovo Silent Hill o Silent Hill 2 remake. Fatemi sapere cosa ne pensate di tutta questa roba, se vi ho rotto le palle con Silent Hill ditemelo, smetto di farci video qua sul canale, a meno che non esca effettivamente il gioco. e vi ringrazio per aver visto il video e ci vediamo come al solito alla prossima. Ciao raga!